Avevo una consapevolezza nuova della mia nudità e del mio cranio rasato. La rasatura era stata crudele. La macchinetta passava duramente sulla povera testa quasi ormai pelata. I miei capelli neri, lunghi, ricci, ribelli erano per terra e non avevo potuto tenere per me neanche il nastrino verde che li legava nella mia vita precedente. Non ero mai, mai stata così sola e così infelice. Le ore passavano e ogni tanto entravano dei soldati. Mi guardavano, ridevano, scambiavano una battuta di spregio. Avevo fame, sete e freddo. Nessuno mi diede nulla, nessuno. Né da bere, né da mangiare, né da asciugarmi. Dopo la doccia rimasi bagnata mentre aspettavo che i miei stracci venissero disinfestati. La scoperta di un pidocchio sulla mia faccia e il mio gesto di riprezzo disperato avevano attratto l'attenzione della capò che mi mandò subito alla disinfestazione e alla rasatura. Io, la fortunata alla quale un mese prima, all'arrivo a Birkenau, non erano stati tagliati i capelli per un capriccio della sorvegliante nell'invidia delle altre prigioniere. La mia faccia era terribile e riflessa nel vetro. Mi facevo paura, volevo gridare, volevo piangere, volevo urlare la mia disperazione a quel cielo grigio. Era inutile. Era inutile. Era inutile.